La Pia vi saluta, non mi vede bene alla televisione, io respiro ancora e i nostri signori vogliono che vi racconti quanto mi è successo l'altro giorno in farmazia. Allora in farmazia l'altro giorno, lavoro poco, ma ho dato una mano e arriva una signora con un tubetto di pomata che scadeva al 31 dicembre. Pomata, che è scritto? 31, 12, 2016. Il dottor per cortesia la butta via. Perché la butta via? È scaduta, è scaduta signora. Guardiamoci nelle pali degli occhi, migo tutto il vantaggio a venderla perché i farmacisti notoriamente sono un po' attaccati al dio soldo. Questa è un'addizione popolare, non so se mi sia dice, mi non credo, ma comunque così dice il popolo. Allora sulle scadenze io ho qualcosa da dire, veniamo a ragionare su questo tubetto di pomata. Ma pensate voi che il tubetto che c'è scritto che scade cinque giorni dopo non le bombe. Ragazzi, ragazzi, veniamo giù dai peri, non andiamo dietro al mercato in questa maniera. Io ho una persona che aveva un pacchetto di riso che scadeva, quest'estate mi è capitata male, scadeva al 30 di giugno, me l'hanno portata, me la butte via. Come la butte via? Eh sì, è scaduto, ma come? Endese giorni è riso e si trasforma in veleno per i topi? No, non credo che Endese giorni riso al 31 di giugno buono al 15 di luglio del veleno per i topi? No, lo credo, almeno non è così. Allora le scadenze bisogna che ci guardiamo nelle palle degli occhi, come sono, come si effettuano le scadenze? Allora si trovano i chimici della ditta XY, si siedono a un tavolo e dicono benissimo, questo prodotto chimico ha una garanzia, perché non è detto che si trasformi in veleno per i topi, prendiamo un antibiotico per esempio, potrebbe perdere di efficacia, cioè se al 31 è valido non è detto che il giorno dopo non sia valido, perché se no ragazzi veramente bisogna guardare la legge, ma nella vita c'è anche la legge del buonsenso, allora adoperiamo questa seconda legge, lasciamo stare la legge, ma la legge del buonsenso. Ma vi sembra possibile che al 31 di dicembre il tubetto scade e il 5 di gennaio del 2017 il tubetto è diventato veleno per i topi? No, no e poi no. Allora torniamo ai chimici, si siedono a un tavolo, c'è dentro cortisone, va bene, il cortisone dopo quella data lì potrebbe alterarsi dopo sei mesi, però perderà di efficacia. E allora a tavolino stabiliscono una scadenza che è messa lì, loro sanno benissimo che quel tubetto lì in realtà può essere dannoso dopo sei mesi, può essere meno efficace perché non diventano veleno per i topi, in caso si parla di minor efficacia. Dopo sei mesi, ma anche dopo sei mesi può darsi che non perda di efficacia, però la ditta, la ditta che lo produce nel mondo che siamo, se tu, stavo per dire una parola che ha a che fare col di dietro, ma non la dico perché se no il gala se la taglia fuori, si para, eccetera. Perché? Perché ha paura che se per caso dovesse succedere qualche cosa, magari per altre evenienze, perché il tubetto aveva un buco perché l'accidente che se lo porta dicono guardate scade al 31, però qual è la realtà? La realtà è che nella verità il prodotto può alterarsi dopo sei, sette mesi, si coprono, si garantiscono, ma non è che è un prodotto perché scade al 31 due giorni dopo le velen per i sorsi. Putei, da bravi, non è velen per i sorsi. Allora, è vero, c'è una scadenza, giusto che ci sia una scadenza, per l'amor di Dio, ma le uova, c'è la scadenza. Ma non è mica di che il giorno dopo sia diventato, è un pulcino, no? O no? Voi altri due che mi ascoltano, diventato un pulcino il giorno dopo? Può darsi che il giorno dopo non sia più, può darsi, ma è difficile. Impossibile. Il riso, ma vuole quella di che quel riso là che è scaduto nel 2014, è che ancora in casa Tamanini e si fa ancora il risotto, se vi interessa. Sì, sì, è vero. È che è scaduto nel giugno del 2014. Nel 2017, mi pare che ultimamente sono stata a Malè con la Solandra, su e la Solandra l'ha fatta il risotto con quelli oli, scaduto da tre anni. Allora, dovete anche ragionare col buonsenso, no con la legge dello Stato, con la legge del buonsenso. Ma non è che in tutta questa baracca che sia sotto un pochettino di mercato? Punto di domanda. Perché potrebbe esserci un pochetto di mercato, non tutto, ma un pochetto di mercato, perché se il prodotto lo faccio scadere un pochettino prima ne vendo di più. O no? Allora, non voglio essere così malizioso, ma coloro i quali adoperano farmaci. Certo, che se uno toglie il farmaco d'estate, almeno l'altra macchina che poi rimane al sole con 80 gradi o quanti gradi che è, può darsi che quel farmaco lì veramente siate, come se alterebbe qualsiasi altra roba lasciata in macchina. Abbiamo visto che c'è gente che ha lasciato i figli in macchina quella temperatura e che gli è morti nonostante che ci sia la respirazione del bambino. Perché? Perché a determinate temperature evidentemente certe cose si alterano. Quindi può darsi che un farmaco, io per esempio, tanto per dirvi, quando qualcuno prende un farmaco e poi me lo porta di ritorno e il medicamento me lo cambia, no. Io posso fare tutto ma non cambiare un farmaco che è stato fuori, perché non so dove l'abbiano messo. Perché può darsi che me l'abbia messo anche in un posto dove veramente il farmaco poteva alterarsi. Perché se un farmaco e me lo mette a 100 gradi o mi fa una roba del genere, insomma ragazzi, non posso io perché a un certo momento il cliente che viene da me può dire, ma scusi dottore, lei è il garante e se viene da fora, certo se viene il Parisi o il Galas, insomma spero che qui e noi lì, ma neanche a voi noi non steveni con il farmaco perché dove i cambi, ve lo dico prima tutti e due. Signori cari, dopodiché potete, secondo il mio parere, adoperare un farmaco anche se è scaduto da uno, due, tre, quattro e cinque. Perché se il ve fa mal, la legge del buonsenso mi dice di no. Salve! Salve!